ciao a tutti benvenuti con play mi ha formato che avevo fatto l'ultimo village prima della realtà della pietra ero tornato qui per vedere se quello che avevo già fatto non avevo saltato qualcosa ma niente e anche berlino mi ha detto nulla di nuovo e poi ho scoperto che nella dimensione x mi era sfuggito un livello che era un boss che ho fatto e mi ha sbloccato un altro livello nel medioevo eccolo qua mi indichierò la tua strega per l'alba per cui sveglia 1 e 8 carote d'oro ehi che succede amica strega devo affrontare lei allora raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologio ok oltre a questo punto corri batte il tempo e sfuggirà azzel prendi le casse rosse per avere più tempo devi trovare una sveglia nelle scatole acme occhio amico aiuto però per capitarlo capisco il cazzo il cazzo no si scade il tempo ma non è bravo fè mamma zi fè ciao oh santo cielo bravo sono tre secondi a botta fissimo cazzo ho fatto sopportire non lo so è una cucca cazzo 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 ho fatto non lo so ecco non c'è proprio il film non lo so 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 ma ma porca di quella troia ah ma devo salire non lo so 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 ciao coniglio viaggiatore ti posso insegnare un trucco magico se vuoi fantastico allora fai attenzione coniglio ti insegnerò una canzone magica che attiverà parecchi dispositivi benone oh peccato ho messo tutte le casse però ma hai lasciato degli oggetti alle tue spalle lascia che salvi la tua posizione grazie grazie merlo ciao si ci vediamo merlo fantastico neanche ha sblaccato l'abilità fantastico cavolo non li faccio ragazzi perché veramente ho saltato ha ho se non che vi lasca va abbiamo Ah, non mi c'è la piccola cazza! naturalmente che parevano eh, salcazza no, no, no no, no io voglio cadere qua però cazzo oh 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 Numero 2 Numero 3 Numero 4 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 Numero 5 Numero 5 Numero 5 Numero 5 bella giornata vero ti insegnerò una canzone magica che attiverà parecchi dispositivi fatta fantastico perfetto hai completato questo livello lascia che salvi la tua posizione grazie merlo ciao si ci vediamo merlo fantastico ragazzi adesso io posso andare per appunto usare una musichetta nel pianforte fantastico proprio si dai sono molto alla svelta c'è il bornetto ma che finalmente ho bloccato il tutto ma vai a cagare pezzo di merda ti ho messo un colpo vera finalmente che sono davanti mamma mia che patibolo la Ecco qua. Fantastico. eh la parte la non poteva arrivare oh finalmente c'è il morito allora ma do per arrivare raggiù ah vai carota fantastico ecco qua toppe vediamo un po' come sono messo pesa tutto toppe proprio toppe del toppe fantastico perfetto hai completato questo livello lo posso vedessimo a fare la tua posizione grazie merlo ciao si ci vediamo merlo si sto pensando ok eh io che qua non ci devo più tornare sto pensando al mio evo tempo dei pirati c'era quella quella pietra tonda che bloccava il passaggio se era una melodia da volevo andare qua vediamo un po' ho che te vissi chiediamo un po' ok ok dai ho noia Sì, tutto. ok senza che veramente vi mostro tutto quanto ci vediamo quando arrivo in quel punto lì allora ragazzi mi sono svegliato di fronte con la porta lì c'è una abilità da sbloccare quindi non si può fare niente l'unica è che torno nel che credo di poter sbloccare poter cantarlo secondo il corvetto l'henson mike eccomi qui ragazzi posso usare la benità che vi dicevo però mi prende to cazzo mi porta dai vai dai vai dai 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 tutta quinto rimuola fatti fantastico vediamo un po come sono messo adesso vediamo va bene ciao dai un'altro si 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 vado a momenti che liscio e qui dovrei andare dove ci sono esatto si ho capito ma perché non e qui la sveglia ah ecco top madonna ok super bellone manca massa very good ragazzi ingegneri su mesta access e serbato ingegneri va bene vediamo un po' 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 cinque merda fa la stessa sola fa un po' No, ragazzi, facciamo così. Andiamo dietro e ci rivediamo in questo punto. Eccomi qui, ragazzi. Sono andato a prendere le altre casse. E qui mi è saposo. Vomita, dai. Forza. Dai. Forza. Allora, però... Perfetto. Oh, cosa è arrivare a mei occhi? E qui? E' un po' che fissà l'occasione. Non mi ha mai fatto. E' un po' che fissà l'occasione. Scusa, guarda gli occhi, data sveglia, no cazzo, c'è un casetto, fantastico, quanta non sa, 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 quanta andiamo un po', cazzo, guarda gli occhi, è battere, 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 lo attenegro, in un paio, non sa, quanta non sa, quanta noia, non sa, quanta non sa, quanta ma maledetta eeeh la matrona eeeh la matrona no forse solo un problema forse eeeh toppi dal toppi vediamo un po' no no sono ancora finito eeeh eeeh non è facile questa telecamera manca un'altra eeeh 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 un'altra sveglia top adesso sono a quota eeeh eeeh manca due slendi e una carota dorata eeeh 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 eeeh